Prova a livellarsi, Kessy, sfonda, Kessy, il pallone basso in mezzo, ancora l'uscita, il gol di D'Alessandro, l'Atalanta vince la partita. D'Alessandro, ottimo il controllo, brucia sullo scatto Molinaro, un occhio in mezzo, la fa dentro per Kessyè, Kessyè, Kessyè! Benassi, gli scivola il pallone, Paloschi va a fare sportellate, con Benassi vince il contrasto, attenzione contro Pio da l'Atalanta, Gomez in profondità per D'Alessandro, D'Alessandro in aria, D'Alessandro, D'Alessandro! Palla alta! Per Piniglia, Piniglia a campo, Piniglia dentro per D'Alessandro, D'Alessandro! Può si averse, la trattiene! Questa laterale è Atalanta, battuta da Gomez verso Piniglia, Piniglia! Dentro Piniglia, gran pallone! E incredibilmente da D'Alessandro, si divona il gol dell'1-0! Solo davanti a Bosanez, da Alessandro a calcio alle stelle! Con un pallone illuminante di Borisso Piniglia! Non ci crede la tratta da D'Alessandro! Va da solo, guarda la porta, poi allarga per Kessy! Pallone interessante! Aria di rigore, Kessy! Pallone sul fondo! Trema la Roma! Con la chance per la fronte, Kessy! Gomez per Freuler, dentro l'aria! Kessy! Kessy! Prova a liberarsi! Kessy! Sfonda! Kessy! Il pallone basso in mezzo! Ancora l'uscita! Il gol di D'Alessandro! L'Atalanta vince la partita! Spinazzola trova l'inbucata per D'Alessandro! 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 E questa volta Sorrentino tira giù la Sarasota! Spinazzola che allarga a sinistra D'Alessandro! E Freschi può puntare di Silvestri! Palla dentro! Kurtic! D'Alessandro che ha spazio da quella parte! Non segue dell'Orco! D'Alessandro la palla dentro! E poi sul secondo palo! Mounier non si ritrova per poco la palla del 2-1 dopo la spizzata di Petagna! Bella giocata di Kurtic! Che va via con un gran dribbling! Trova Gomez! Pallone di ritorno per lo sloveno! Ancora Kurtic! Dentro il pallone! Lo manca D'Alessandro! Che va via 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 Grazie a tutti.